ciao a tutti gli amici di roma youtube ben trovati eccomi qua di ritorno con un nuovo unboxing ed oggi andiamo ad unboxare lupen cofanetto dei film dal 2016 al 2019 proprio gli ultimi film praticamente di di lupen che arrivano per la prima volta in un video grazie alla produzione di amato video e alla distribuzione di eagle picture come sempre è un box limitato anche in questo caso mille copie quindi attenzione ragazzi perché dopo queste mille copie non saranno più disponibili sul mercato non so se saranno poi stampati singolarmente o quant'altro e all'interno troviamo questi tre titoli quindi la partita italiana addio amico mio e prigioniero del passato ogni tra l'altro c'è anche una stampa interna non so se riuscite a vederla penso di sì devo dire un box semplice ma comunque di effetto e in ogni box troviamo anche un prezioso booklet con bozzetti preparatori sui personaggi ve li vado a mostrare sarà un video un po lunghetto amaraicicciottosa per questa uscita non ci sono grossi extra a parte solite sigle titoli di testa e quant'altro con e senza strilli il disco devo dire che si vede molto molto bene e avete la possibilità di scegliere la cover quindi o questa con tutti i dettagli dei chi ha lavorato al film oppure questa con i personaggi all'interno del del film qui abbiamo un prezioso booklet come vi dicevo ma in tutte le box i tre film abbiamo un booklet questo è quello della partita italiana e troviamo aspettate degli splendidi artwork sono veramente dei piccoli art book come vi dico spesso che fa sempre piacere insomma collezionare non ci sono purtroppo informazioni interviste sul lavoro questo è un po un peccato ma comunque restano degli ottimi book insomma da collezionare guardate qui che sciccheria ripeto sarà un video un po lunghetto perché vi devo mostrare tutti e come al solito io vi esorto a iscrivervi al canale se vi fa piacere e attivate la campanella così vi arrivano sempre le notifiche sulle pubblicazioni dei prossimi video unboxing interviste e quant'altro noi di naruto si di naruto di daruma mettiamo online ho appena fatto il video unboxing di naruto quindi ce l'ho ancora in testa e vi lascio ovviamente il link in descrizione per acquistarle su amazon ma lo trovate un po in tutti gli store come sempre poi tra l'altro se vi fa piacere mettete un bel like vi dico tutto adesso così ci anticipiamo con i tempi questo è il secondo la seconda uscita quindi il prigioniero del passato anche qui possibilità di scegliere la cover e poi ovviamente disco blu ray qualità come la come l'altro extra gli stessi del precedente quindi solo sigle con senza strilli tutto il resto quindi nulla di diciamo informativo come interviste o making of o d'altro e poi abbiamo degli veramente splendidi artwork all'interno del booklet guardate qui che belli un po uno studio sui personaggi ma i miei gara guardate che qui ogni tanto le pagine si attaccano che vive ragazzola io sono felice perché insomma piano piano stiamo recuperando un po tutti i film di lupin questo mese doveva uscire anche quello di nostra damus ma è stato rimandato ad aprile se non erro addirittura o a marzo ora non ricordo mentre il copanetto che dove uscire il mese prossimo sarà rimandato quello sì ad aprile quindi c'è stato un po un cambio piano delle uscite ma comunque arriveranno e piano piano credo che recupereremo un po tutti i film di lupin che non sono pochi questo sempre grazie alla collaborazione tra yamato e igo pc abbiamo anche un po di studi sui vari veicoli o accessori all'interno di questo film devo dire sono tutti film splendidi quindi uno più bello dell'altro e vi ricordo per l'ennesima volta che questo copanetto è limitato a mille copie dice perché dice sempre le stesse cose perché poi spesso e volentieri mi fate delle domande che ha delle che trovano diciamo risposta all'interno dei video ma purtroppo qualcuno non lo vede mai tutto anche quando faccio video brevi di un minuto qui abbiamo l'ultimo l'ultima uscita quindi addio amico mio l'ultimo film di questo box anche qui possibilità di scegliere la cover anche qui si vede benissimo e all'interno gli extra sono i medesimi delle altre uscite e poi abbiamo l'ultimo booklet sta cercando di andare un po veloce perché se no sto video dura una cifra che nessuno lo guarda anche qui come potete vedere studio dei personaggi un sacco di bozzetti un sacco di di chicche sia per chi è appassionato di disegno per chi è appassionato di animazione per chi vuole studiare come riportare poi effettivamente questi personaggi su carta insomma c'è un po di tutto sempre una chicca non da poco avere questi booklet all'interno anche qui anche un po di studio sui vari accessori all'interno di questo film e che dire ragazzuari io sono veramente felice di questa uscita e spero che anche qualcuno di voi insomma lo sia altrettanto fatelo vostro perché ripeto mille copie e l'upen va sempre abbastanza bene quindi rischiamo poi di rimanere scontenti questa era l'ultima pagina di questo box di questo booklet di questo box e io vi ricordo che è un box con i tre film all'interno e che lo trovate disponibile un po ovunque grazie per essere arrivati alla fine di questo video noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti